Vuoi pubblicare un audiolibro ma non sai da dove iniziare? Questo video è dedicato a te. Io sono Alessandro De Giorge, sono il fondatore e CEO di YouCanPrint. L'audiolibro è l'ultimo trend dell'editoria mondiale e la sua diffusione e crescita ha avuto un'esplosione negli ultimi due anni. Produrre il tuo libro in audiolibro è certanto fondamentale se desideri cogliere questa opportunità di mercato e servire una tipologia di lettori completamente diversa rispetto a coloro che leggono i libri cartacei e digitali. Offrire una distribuzione ampia in tutti i formati possibili è la condizione fondamentale per poter ottenere il massimo in termini sia di vendita che di visibilità. Difida sempre da coloro che affermano che dare l'esclusiva ad Amazon o ad altre piattaforme e concentrarsi esclusivamente su ebook offra le migliori opportunità di vendita. Non offrire un formato editoriale o ignorare decine e decine di piattaforme e mercati è semplicemente ignorare milioni di lettori in cambio di qualche punto percentuale in più sulle vendite, su una singola piattaforma come Amazon appunto. Non è una questione di preferenze di piattaforme è una questione di aritmetica. Ci sono milioni e milioni di lettori nel mondo che non usano Amazon e che non leggono esclusivamente cartacei o ebook. Sendo un pubblico o una piattaforma in grado di garantirti la distribuzione più ampia possibile in tutti i formati come You Can Print per questi lettori semplicemente non esisterai e non sapranno mai dell'esistenza del tuo libro. Quindi, mi raccomando, nessuna esclusiva o una singola piattaforma è in massima distribuzione in canali e formati. Veniamo ora all'audiolibro e cerchiamo di capire insieme come produrlo in maniera professionale. Per agevolarti dividerò questo video in due parti fondamentali. Gli elementi fondamentali, ossia le caratteristiche minime che devi rispettare e i controlli di qualità per produrre un audiolibro professionale. Come per un libro cartaceo e digitale, un audiolibro deve avere degli elementi fondamentali. Vediamoli insieme. Esistono fondamentalmente tre modalità per produrre un audiolibro professionale. Il primo, pagare un narratore professionista. Questa è sicuramente la soluzione più onerosa, ma è dal punto di vista della qualità e delle royalties è sicuramente la migliore. Dal punto di vista della qualità, affidarsi a un narratore professionista comporta la possibilità di ottenere un prodotto di altissimo livello che rispetta tutti gli standard di qualità previsti dai principali canali di vendita degli audiolibro, come Audible di Amazon. Dal punto di vista delle royalties, pagare un professionista ti permetterà di ricevere il 100% delle royalties che generi dalla vendita, ovviamente al netto dei costi di distribuzione e della piattaforma. Questo perché? Perché non devi dividere i profitti con la piattaforma o con un narratore. I costi di registrazione di un audiolibro sono scesi molto da quando il mercato è esploso. Parliamo per esempio di 3 euro a cartella editoriale e ovviamente a salire a seconda della tipologia di autolibro. Puoi anche fare affidamento su voci famose per registrare il tuo audiolibro o usare più voci e dei suoni di sottofondo. In sostanza potrai, grazie all'uso di professionisti, realizzare dei piccoli capolavori che renderanno un piacere l'ascolto del tuo libro e genereranno passaparola, recensioni positive e quindi maggiori vendite. Numero 2. Accontarsi con un narratore professionista per ripartire le royalties. Anche se questo è sempre un vantaggio, ma eliminare l'investimento iniziale per produrre il tuo audiolibro di fatto il tuo guadagno verrà diviso tra te e un professionista, quindi di fatto hai rinunciato ad un costo ma dovrai anche rinunciare a delle royalties. Se invece guardiamo con gli occhi del valore, come ti ho sempre suggerito anche nei miei video precedenti, la registrazione non è un costo ma un investimento. Se dividi le royalties con un narratore è vero che non dovrai affrontare un pagamento iniziale, ma è anche vero che dovrai dividere qualsiasi guadagno futuro e inoltre non avrai mai il controllo dell'opera. Questo significa che qualora decidessi per esempio di toglierla dal mercato, dal commercio, non potrai farlo se non avrai l'autorizzazione anche del narratore con cui hai diviso le royalties e se la proprietà dell'audolibro. Tale approccio è molto utile e adatto a chi per esempio regista gli audiolibro per la prima volta o ha paura dei costi, poiché non conosce bene il potenziale del mercato ma è assolutamente sconsigliato per i self publisher professionisti o comunque per chi ha già realizzato un audiolibro con questa modalità. Un ulteriore aspetto negativo è che se ti affidi per registrare l'audolibro alla stessa piattaforma con questa modalità, spesso il contratto di pubblicazione, il caso di ACX, ad esempio, è molto vincolante, dura 7 anni. Questo significa che una volta in commercio non potrai rimuovere il tuo audiolibro prima di 7 anni. Il consiglio che posso offriti è quello di investire nel tuo libro, su te stesso, sul tuo brand personale. Se non investi tu nella tua opera, chi pensi che potrà farlo? Investi nella tua opera, paga un narratore professionista e goditi i profitti per sempre. Ricordati che il costo che affronterai sarà affrontato una sola volta e poi l'audolibro resterà in distribuzione per sempre e potrà potenzialmente generarti profitti per un lunghissimo periodo come una rendita passiva. Al contrario, il narratore ha tutto da guadagnare, investe una parte del suo tempo e ottiene una rendita. Come vedi, questa approccia è a tutto vantaggio del narratore invece che tuo. Quanto stai scambiando la tua libertà e i tuoi profitti per un piccolo risparmio iniziale. Numero 3. Produrre da solo il tuo audiolibro. Questa modalità è realmente la migliore, ma nasconde molto insidie, comunque superabili. Come CEO di EconPrint ho ascoltato centinaia di audiolibri autoprodotti e devo dire che appena il 10-15% può essere perfetto. La maggior parte presentano una lunga serie di problemi che non li rendono distribuibili e soprattutto vengono respinti dagli store per scarsa qualità. Devi sapere che prima di distribuire un audiolibro creato con software automatici, gli store controllano una serie di aspetti e se il tuo audiolibro non supera tutti questi controlli è praticamente impossibile accedere al mercato. Questi controlli sono fondamentali per garantire a chi ascolta la massima qualità, quindi non puoi sottovalutarli o ignorarli pensando di essere in grado di produrre un audiolibro da solo in maniera professionale. Vediamo ora come trovare un narratore. In questa sezione del video ti spiegherò dove poter trovare i migliori narratori per la produzione di libri destinati al self-publishing. L'elenco non è completo né esaustivo essendo rivolto esclusivamente al mercato in lingua italiana e ti segnerò solo le migliori piattaforme italiane. La prima, You Can Print. Ovviamente ci siamo noi. Siamo stati i primi in Italia a permettere ai self-publishing di produrre audiolibri. Abbiamo registrato il primo audiolibro nel 2015. Infatti siamo la prima piattaforma per il numero di audiolibri prodotti e distribuiti in Italia. E il numero di audiolibri che abbiamo in commercio è all'altezza di quello dei grandi gruppi editoriali. Per farti capire abbiamo quasi gli stessi audiolibri prodotti da mondatori. Sulla nostra piattaforma potrai scegliere di produrre un audiolibro in italiano sia con voci maschili che femminili a costi accessibili, scegliendo tra nove narratori disponibili al momento in cui ti sto realizzando questo video. Si parte da 4 euro fino a 7,50 euro a cartella editoriale. È possibile registrare l'audolibro e poi distribuirlo anche con altre piattaforme. E inoltre abbiamo la possibilità di registrare anche un estratto di prova per permetterti di ascoltare e valutare la riuscita finale del tuo audiolibro prima di investire l'intera somma per la registrazione integrale. Con You Can Print puoi anche distribuire il tuo audiolibro su Audible, Apple e su tantissimi altri store. Numero 2. Il narratore. Questa piattaforma è stata la prima a distribuire e vendere audiolibri in Italia. All'inizio del 1999 e dal 2008 offrò anche un servizio di distribuzione. È possibile scegliere tra 45 lettori disponibili ma al momento in cui ti sto parlando il loro costo di registrazione è piuttosto alto e devono essere pagati in anticipo. Consigliamo quindi di contattare sempre la piattaforma per avere informazioni. Numero 3. Streetlib. La piattaforma italiana Streetlib che distribuisce anche cartacei ed e-book attualmente ha una partnership con il narratore e pertanto potrete registrare con Streetlib il vostro audiolibro attraverso il narratore e in questo caso Streetlib si occuperà anche della distribuzione. Streetlib offre degli esempi di registrazione che partono a 19€ a cartella editoriale. Ecco di seguito poi una comparazione dei costi della produzione di un audiolibro con queste piattaforme. Ho usato come parametro la cartella editoriale e il costo minimo indicato su ciascuna piattaforma. Vediamo ora le piattaforme che ti permettono di produrre un audiolibro e di dividere le royalties con il narratore. Su queste piattaforme potrai trovare il narratore disponibile a registrare gratuitamente la versione audio del tuo audiolibro condividendo con te i guadagni. Numero 1. ACX di Amazon. Sicuramente la più importante e la più conosciuta ma al momento non è accessibile al mercato italiano ma solo a quello americano e inglese. Troverai un sacco di guride web che ti promettono tramite la loro società di diritto inglese di poter accedere ad ACX anche se risiedi in Italia. Ma ti chiedi di fare molta attenzione a queste offerte. Un altro aspetto da considerare sono i tempi di accettazione e di produzione. La richiesta su ACX è talmente elevata che i tempi di registrazione sono molto alti e sono alti anche i tempi di inserimento e connercio in quanto la piattaforma è molto satura. Nel momento in cui ti sto realizzando questo video oltre 2400 titoli sono in attesa di registrazione e oltre 420.000 narratori sono pronti a registrare il tuo audiolibro. Tech Time numero 2 piattaforma italiana che ha lo stesso modello di ACX e offre anche il servizio di traduzione. Nel momento in cui ti parlo ha oltre 2800 narratori e ha prodotto più di 8.000 autolibri. Numero 3 Find Away Voices piattaforma americana acquistata da poco da Spotify che ha lo stesso modello delle altre due che ti ho citato e prevede il pagamento di metà del costo di registrazione al narratore in cambio di una percentuale di royalties più bassa. La piattaforma offre anche la possibilità di registrare e pagare interamente l'audolibro ottenendo il 100% delle royalties. Nel momento in cui ti parlo la piattaforma non fornisce dati ufficiali sul numero di narratori e sul numero di libri prodotti. Vediamo quali sono i requisiti per produrre un audiolibro perfetto. Per realizzare un audiolibro professionale esistono due aspetti fondamentali che deve assolutamente curare la leggibilità del testo, ovvero l'assenza di errori e la qualità audio della registrazione. Sulla qualità del contenuto metto a tua disposizione tutta l'esperienza che abbiamo acquisito in sei anni oltre 600 audiolibri realizzati con un audiolibro per essere professionale ed essere accettato senza problemi da piattaforme come Audible deve essere fondamentalmente composto da una traccia mp3 per ogni capitolo ed è preferibile avere una traccia separata per i crediti di apertura e i crediti di chiusura. Ogni traccia non può essere più lunga di 120 minuti e nel complesso l'audolibro non può durare meno di 10 minuti. Non c'è ovviamente limite al numero di tracce che un audiolibro può contenere. Un altro aspetto tecnico fondamentale è il bitrate. È un termine del linguaggio informatico e indica la quantità di dati che viene trasmessa entro un certo periodo di tempo. Più alto è il numero, più significa qualità e velocità. Il bitrate ideale per un audiolibro deve essere uguale in tutte le tracce e maggiore di 192 Mbit al secondo. C'è poi il valore RMS, cioè la potenza dell'audio, che deve essere compresa tra meno 24 e meno 14 dB. Il contenimento deve essere maggiore di 44.000 Hz. Per quanto riguarda la copertina deve essere in un formato JPEG o RGB di dimensioni maggiore di 2400 pixel. Per la pubblicazione è necessario fornire il titolo, il nome dell'autore, il nome del narratore e una sinossi di massimo 1200 caratteri, spazi inclusi, la categoria di appartenenza dell'opera, il nome del titolare del copyright, ovviamente quindi l'autore. Vediamo ora l'aspetto della qualità. I controlli di qualità consigliati sono sulla qualità della voce, sull'assenza di disturbi, rumore di sottofondo, clic, pause troppo lunghe sulla carezza della voce. I requisiti minimi sono quelli che vedi poi elencati giù nella descrizione di questo video. Ad esempio abbiamo la lunghezza minima dell'intero audio libro che non deve essere superiore a 10 minuti, la potenza dell'audio, il campionamento di 44.000 Hz e così via. Immagino che ora ti sentirai disorientato e ti chiederai come faccio a controllare che il mio audio libro rispetti tutte queste specifiche tecniche. È piuttosto semplice. Ti consiglio di utilizzare VLC Media Player, un ottimo software gratuito che puoi scaricare con il quale verificare il campionamento e il bitrate del tuo audio libro. Un altro software molto utile che puoi utilizzare è MP3 Quality Modifier, grazie al quale potrai modificare il bitrate e il campionamento degli audio libri o delle tracce che non hanno passato il controllo di qualità che hai fatto in precedenza con VLC. Per l'editing delle tracce, audio avanzato per montare eventualmente più voci, suoni sottofondo, tagliare, correggere, poi usare Audacity, un ottimo software gratuito e semplice da usare sia su Windows che Mac e Linux e soprattutto è open source. Ecco, è tutto qui. Ora possiedi delle informazioni preziosissime che ti permetteranno di produrre un audio libro di assoluta qualità che potrà essere accettato, distribuito senza alcuna difficoltà dalle migliori piattaforme di vendita. Siamo giunti alla fine di questa guida riguardante la produzione di un audio libro professionale. Ora che sai quali sono le specifiche tecniche che le tue tracce audio devono avere, voglio sinteticamente indicarti quali sono le attrezzature di cui hai bisogno per produrre un audio libro professionale comodamente a casa tua. Nella descrizione di questo video troverai tutto l'elenco dettagliato, parliamo ovviamente del microfono professionale, delle cuffie, dell'asta, tutti gli aspetti fondamentali per costruire un piccolo studio professionale di registrazione a casa tua. Nella descrizione del video ti indicherò oltre al nome anche ai link dove poter acquistare questi prodotti, ti spiegherò anche quali sono gli aspetti positivi, gli aspetti negativi e come orientarti anche nel prezzo. Parliamo ora del luogo per registrare. Questo aspetto è fondamentale in quanto il luogo in cui registrerai dovrà, oltre ad essere ovviamente silenzioso, farti sentire sicuro e tranquillo. La registrazione di un audio libro può richiedere diverse ore al giorno, per molti giorni e durante la lettura devi essere assolutamente concentrato su ciò che stai leggendo senza doverti preoccupare di cosa penserai il vicino che ti sta ascoltando o se entreranno da un momento all'altro i tuoi figli o i tuoi amici o i tuoi parenti. Ti consiglio quindi di trovare un luogo in cui potrai facilmente isolarti per 3 o 4 ore continuative senza alcun rischio di essere interrotto o ascoltato o disturbato. Se guardiamo i prezzi potrai registrare in autonomia un audio libro con attrezzatura che è compresa tra i 300 e i 500 euro come vedrai nella descrizione del video. Non ti ho indicato dei prodotti entry level ma dei prodotti professionali e potrai registrare degli ottimi audiolibri che saranno tranquillamente accettati da tutti gli store. Ovviamente questo non sostituirà la qualità professionale di uno studio di registrazione con attrezzature che sono decisamente diverse e molto molto più professionali. Tuttavia, come ti ho sempre cercato di spiegare, non focalizzarti mai sul costo ma sul valore per scegliere se produrre in autonomia un audio libro o affidare la produzione ad un professionista valuta il ritorno che riceverai nel lungo periodo piuttosto che il costo iniziale che dovrai affrontare. Se ti focalizzi sul costo rischi di restare bloccato e non fare nulla, questo in generale nella vita come la maggior parte delle persone. Se al contrario ti focalizzi sul valore di ciò che stai creando e sul ritorno che questo può potenzialmente garantirti nel tempo allora stai ragionando come un vero self publisher, come un vero imprenditore e stai investendo sull'asset più prezioso che hai te stesso. Se hai già registrato un libro o l'hai già pubblicato raccontami la tua esperienza nei commenti le difficoltà che hai incontrato, i consigli che vuoi condividere con gli altri autori o se hai qualche dubbio o domanda che vuoi pormi commenta pure sarò felicissimo di risponderti e di aiutarti. Noi ci vediamo al prossimo video sul self publishing, ti aspetto!